Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Visita di Matteo Salvini a San Ferdinando in occasione del Consiglio dei Ministri. Sequestrati beni all'ex presidente dell'Associazione Antimafia di Reggio Calabria. Alla mezza terme si è discusso dell'importanza del PSR Calabria 2014-2020. A Catanzaro con gli studenti ci si prepara alla festa della liberazione. In apertura dunque la politica. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in occasione del Consiglio dei Ministri in Calabria fa visita alla Tendopoli di San Ferdinando. Non c'è solo il Consiglio dei Ministri oggi in Calabria perché c'è chi approfitta per l'occasione per tornare alla nostra regione e seguire gli sviluppi di una delle azioni che ha fortemente voluto. Il riferimento è al Ministro degli Interni Matteo Salvini e alla demolizione della Baracopole di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria. Il Vice Premier infatti approfitta della riunione dell'esecutivo in Calabria per visitare la Tendopoli. Ricordiamo che nelle scorse settimane nell'area di San Ferdinando sono state smantellate 31 delle nuove tende che ospitavano 150 migranti e ora tutti i migranti saranno ospitate nella nuova Tendopoli. Salvini quindi farà visita ai migranti e vorrà certamente verificare in prima persona quello che è lo stato delle cose. Era stato lo stesso Ministro degli Interni che aveva garantito all'indomani di una prima vista alla Baracopoli che la stessa sarebbe stata demolita, cosa che è avvenuta poi qualche settimana fa. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha sequestrato beni all'ex presidente dell'Associazione Culturale Antigone, osservatorio sull'Andrangheta, Claudio Antonio. La Camera. Beni mobili ed immobili per oltre 217 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria all'ex presidente dell'Associazione Culturale Antigone e osservatorio sull'Andrangheta, Claudio Antonio. La Camera. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Reggio Calabria a conclusione di un'indagine in materia di contrasto alle frodi in materia di spesa pubblica sull'erogazione di fondi regionali e provinciali all'Associazione. Gli accertamenti, attraverso controlli incrociati, esami di documenti bancari, intercettazioni, appostamenti e pedinamenti, hanno consentito di rilevare un illecito profitto di contribuzioni pubbliche quantificato in circa 400 mila euro su un totale erogato di oltre 800 mila tra il 2007 e il 2014. Il tutto ottenuto, secondo quanto emerso, mediante documentazione mendacee e fatture con chitanza non veritiera, come accaduto in particolare, per l'acquisto dell'impianto di videosorveglianza del museo. Ancora cronaca, oltre cinque quintali di novellame di sarda sono stati sequestrati dai finanzieri della sezione operativa navale di Crotone. I militari, durante un servizio di pattugliamento, si sono insospettiti per la presenza di un furgone frigo fermo in prossimità dell'incrocio stradale tra la statale 106 e la 107 bis e sono intervenuti. A seguito di un controllo hanno trovato all'interno della macchina mezza tonnellata di bianchetto di cui è proibita dalla normativa comunitaria e nazionale la detenzione, la pesca e la commercializzazione. Al conducente dell'automezzo, un uomo di 73 anni di ciromarina, è stata elevata a una sanzione amministrativa pari a 25 mila euro. Il prodotto ittico, risultato privo di tracciabilità, è stato distrutto secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Cambiamo decisamente argomento. La città di La Mezzia Terme ha ospitato un seminario organizzato dalla CIA, agricoltori italiani, per discutere in merito all'importanza della misura 1 del PSR Calabria 2014-2020. Trasferimento delle conoscenze e delle azioni di informazioni è la misura 1 del PSR Calabria 2014-2020 ed è stata al centro di una discussione nel corso di un seminario promosso da CIA Calabria alla Mezzia Terme. La misura 1, lo ricordiamo, comprende quelle azioni necessarie per la divulgazione agricola. Accanto al necessario aumento della produttività dell'agricoltura c'è necessità di formare e di informare gli agricoltori. L'agricoltura è una cosa molto complessa, è un sistema di connessione, oltre che soltanto produttivo, anche di tipo ambientale, anche di tipo di sicurezza sul lavoro, sulle necessità di diversificare la produzione. Quindi l'informazione che queste misure consentono nell'ambito del PSR sono strettamente connesse ed integrate all'aumento della produttività agricola. Un settore molto complesso, quello dell'agricoltura in Calabria, che però sta cominciando a dare i suoi frutti. L'agricoltura calabrese è in una fase di forte transizione perché noi abbiamo delle produzioni di trasformati che sono eccellenza agroalimentare e però dobbiamo praticamente rafforzare la filiera di base produttiva. Sulla materia prima abbiamo avuto qualche calo sia per quanto riguarda i prodotti commodities sia per quanto riguarda i prodotti trasformati. Quindi c'è la necessità di approfondire anche alcuni temi e se necessario diversificare. Penso per esempio alla capacità di legare tutti gli aiuti che noi abbiamo dato sul biologico anche alla produzione di prodotti biologici, cioè di materia prima biologica. Quindi un'inversione di tendenza che è necessaria per rendere appetibile al mercato le produzioni anche di base calabrese. Ed importante è stato il contributo di Calabria, come d'altronde quello delle altre organizzazioni professionali, nella stesura del PSR. L'unico strumento finanziario in agricoltura è il PSR, non avendo più risorse e le regioni da investire sul comparto e quindi abbiamo cercato di starci sopra nel migliore dei modi possibili. Naturalmente tenendo conto delle regole che in primis la Commissione europea detta e quindi senza provare a stravolgerne il significato e gli indirizzi che venivano dati. Però ad esempio su alcune questioni abbiamo cercato di spingere, stiamo aspettando che esca ad esempio il bando sulla misura 9 che è quella che abbiamo perorato fortemente, che è quella che finanzia la nascita di nuove aggregazioni. E ora ci spostiamo a Luzzi nel Cosentino dove è stato presentato il piano di azione locale del Gall della Valle del Crati. Nuove opportunità per il territorio con i bandi delle PSR 2014-2020 per i 26 comuni e le tantissime aziende del Gall della Valle del Crati. Se ne è discusso a Luzzi in provincia di Cosenza in occasione della presentazione del piano d'azione locale. Sono circa 6 milioni di euro, il primo è il 411 che è già stato pubblicato, quindi è un bando già in essere dove dà la possibilità alle aziende agricole esistenti di poter fare investimenti in ampliamento, ristrutturazione e rafforzamento. È un bando che è stato pubblicato circa un mese fa e scaderà a giugno. Abbiamo già avuto tantissime richieste, tantissime aziende che vengono al Gall a informarsi perché noi Gall abbiamo istituito un sportello dove riceviamo e diamo supporto alle aziende, ai consulenti, a tutti quelli che ci chiedono informazioni, tre giorni a settimana. Insomma una grande opportunità per queste piccole aziende. Sì, una grande opportunità perché il Gall, come dicevo prima, offre qualcosa in più rispetto agli altri enti come la rapidità, la presenza sul territorio e soprattutto la velocità che poi tutti questi effetti si traducono in un abbattimento drastico della burocrazia che è quella tassa occulta che pesa come un macigno sulle spalle delle nostre imprese. Oggi abbiamo messo a disposizione dei Gall, oltre in questo Gall di 5 milioni di euro, hanno messo a bando quasi un milione di euro quindi per le varie attività di rinnovamento delle aziende agricole o di nascita di nuove aziende agricole. Ma la cosa più importante dei Gall, forse in questo piano di sviluppo rurale noi abbiamo dato un ruolo importante perché mentre nel PSR possono partecipare tutte le aziende, dei competitor, ma la piccola azienda dell'area interna è lontana dal centro, non ha le possibilità magari di arrivare i primi in un bando ma avendo fatto diviso la Calabria in 13 Gall e questa volta nessun territorio della regione Calabria abbiamo lasciato fuori, alla scorsa programmazione c'erano aree intere che erano fuori. Questo Gall si è allungato fino alla costa, quindi arriva fino a Cetraro, Paolo, tutti i paesi questi, Fuscaldo, che erano fuori dell'area del Gall. Sono 26 comuni e quindi c'è un contatto diretto e dà la possibilità a tante piccole aziende di poter comare il proprio sogno a realizzare. Abbiamo degli esempi, se guardiamo al passato sono nate tante piccole aziende che oggi sono diventate aziende importanti in questo territorio. Incontro tra i componenti della consulta provinciale studentesca con il prefetto Francesca Ferrandino e i rappresentanti dell'Ampi provinciale in vista delle celebrazioni del 74esimo anniversario della liberazione del nazifascismo il prossimo 25 aprile, incontro istituzionale a Catanzaro fra i componenti della consulta provinciale studentesca con il prefetto Francesca Ferrandino ed i rappresentanti provinciali dell'Ampi, l'associazione nazionale partigiani d'Italia. È un confronto che nasce da tempi un po' passati, nel senso che quando io sono arrivata qui a Catanzaro ho cominciato a lavorare a Catanzaro, ho voluto fortissimamente incontrare i rappresentanti della consulta degli studenti per un confronto sui temi di attualità che riguardano il nostro territorio e tra i temi di attualità insieme abbiamo deciso che rientra proprio quello della celebrazione della festa del 25 aprile, perché? Intanto perché è una data importante, una data di appannaggio di tutto il popolo italiano perché racconta un fatto storico importante, finalmente la liberazione dalla Germania dei nazisti di Hitler e dalla dittatura che ha massacrato il nostro paese. Una giornata che non va vista sotto il profilo storico ma che va analizzata attraverso la cultura che ci aiuta a essere migliori e ad individuare i possibili antidoti che dobbiamo assolutamente porre in atto per evitare analoghe situazioni per il futuro. Quindi è un confronto importante che è stato voluto d'intesa con la consulta degli studenti che normalmente si riunisce anche qui in prefettura, è la sede dove loro sviluppano le proprie discussioni, non solo quella sul 25 aprile. Per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e a più tardi. Grazie a tutti.